Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Il nostro stile di baiola è come parecchio. Il nostro gancho è un altro e il nostro baiola in forma di richting weiser. Quindi il nostro baiola è tenendo un altro, ma sempre donando un altro suo spazio, con ogni corso si muove, sempre independente, ma in armonia con l'altro. Il nostro stile di baiola è tenendo un ritmo, guardare il baiola in un altro paese. Il nostro stile di fare in una nostra maniera. Il nostro baiola è un choque musical tra la musica europea e la musica africana. Il nostro baiola è come back, il nostro baiola è montato, è montato, è bollero, è guaraccia e è danza. Il nostro baiola è come back in totalità. Il nostro baiola è come back. Il nostro baiola è montato molto antico, ma è anche slow. Il nostro baiola è tipificato. Il nostro baiola è montato e il nostro baiola è differente fuori e cubano. Il nostro baiola è molto importante, è il swing. Il nostro baiola è piuttosto, il nostro baiola è rima e il ritmo. Il nostro baiola è un baiola, quindi è curva il swing. È il nostro baiola è davvero la Sì, sì, un'arte. Ante buome si faccia un buon tempo? Correcto, sì. È la prima festa, come vai, ma conosci. È la festa del 16 de dicembre del 1964, e poi già domingo. Non stiamo 48 anni. Anche già t'invito, già sabato, già domingo, già luna. È sempre sempre molto. È sempre molto molto. È sempre molto molto. Sì, sì. Quindi, quando la gente stava mirando, la gente stava crescendo. È sempre più. Sì, sì, è sempre più. 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 Grazie a tutti.